Si tratta di un progetto che nasce in seguito a un progetto regionale del 2019 relativo alle multicronicità e che prevedeva una finestra sulla prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione. Questo progetto è partito subito con uno studio di prevalenza che ha fatto una foto di quello che era lo stato sia nei nosocomi che sul territorio, tanto da avviare un gruppo di lavoro che ha provveduto all'aggiornamento della procedura aziendale. In seguito a questo si è creato un ambulatorio che consente una consulenza anche in giornata, soprattutto in giornata, al paziente nel nosocomio, fino poi a seguirlo a domicilio con delle rivalutazioni a 7, 15 e 30 giorni. Oppure il paziente, se non viene dimesso a domicilio, va nell'ambulatorio delle lesioni croniche presente a Matera già nel 2015. L'obiettivo è quello di far crescere l'ambulatorio delle lesioni da pressione creando un gruppo cronologico che possa supportare l'assistenza domiciliare a tutto tondo e allo stesso tempo seguire il paziente dall'ospedale al territorio e viceversa.